E' dal 2017 con la legge sul bullismo e sui pericoli da contrastare in rete che è nata l'idea del patentino destinato ai più giovani che sapranno così usare lo smartphone senza incappare nei pericoli del web. L'iniziativa ha visto protagonisti 1450 alunni di 17 istituti comprensivi distribuiti su 73 classi di scuole medie dell'Alessandrino ed ha visto la formazione di 18 nuovi insegnanti che si vanno ad aggiungere ai 47 docenti già attivi. Il progetto ha visto la collaborazione della Polizia Postale, dell'ASL del Piemonte, dell'Ufficio Scolastico e dell'ARPA Piemonte. La cosa principale che cerchiamo di far capire ai professori in primo luogo e poi agli studenti in secondo luogo è una cosa molto molto semplice che è quella che noi dobbiamo, noi e tutti quelli che usano gli smartphone, devono utilizzare il principio di precauzione, quindi minimizzare i due aspetti fondamentali delle interazioni con i campi di ferromagnetici, cioè aumentare la distanza tra la persona e il cellulare e diminuire il tempo di utilizzo. È un'esperienza che si ripeterà anche il prossimo anno, crede? Diciamo che è un'esperienza consolidata e quindi è proprio prevista da un protocollo, da una legge regionale, quindi sicuramente sì. Nella sala convegni di Confindustria, partner istituzionale, la consegna formale dei patentini ai ragazzi, non potendo essere tutti presenti e a rappresentarli, c'erano solo le sette classi della scuola media straneo di Alessandria che hanno partecipato all'iniziativa. Che cosa diresti ai tuoi coetanei? Di pensare perché a fianco a una foto, dietro a una foto c'è tutto altro, quando la pubblichi, e quindi a volte è meglio tenerla per te.